Ciao Ciao Alla cerimonia di apertura del diciassettesimo festival internazionale del folclore di Carpinone Il benvenuto più grande va ai gruppi che si esibiranno stasera e adesso voglio seguire il calore della piazza Signori benvenuto al Brasile Si forse alla barriera del sud Alla nuova scelanda Alla Repubblica CETA Alla Teguia Alla Teguia E naturalmente ai gruppi italiani Un saluto sfumale anche alla delegazione di Manza e alla delegazione della Repubblica CETA Signori Sette nazioni 8 gruppi a rappresentare questo piccolo angolo di mondo qui a Carpinone Tutto questo è reso possibile grazie al presidente del gruppo Folk Rumacatur Un ringraziamento speciale a Michele Caprini Adesso è possibile insieme ai suoi collaboratori questo evento Questo evento che cominciò da ieri sera Questa sera vede l'esibizione anche di tutti i gruppi e tra poco anche la sfilata con gli indi nazionali Ma lascio la parola al presidente per un ringraziamento Grazie 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 Buonasera a tutti Grazie ai gruppi che sono intervenuti Il mio benvenuto è il benvenuto del paese di Carpinone Di tutta la cittadinanza Volevo ringraziare questi gruppi perché per la diciassettesima volta questa piazza mercato torna a rivivere un'importante emozione Emozione di scambio culturale, emozione che arricchisce tutti noi carpinonesi Oggi dicevamo che i carpinonesi e i carpinone hanno una grande fortuna Noi senza dover pagare un biglietto da aereo non abbiamo la necessità di andarci A Carpinone abbiamo la fortuna di vedere il mondo E per questo ringrazio il gruppo Coltruma Accature Ringrazio i gruppi che vengono E ringrazio la cittadinanza carpinonese che sa accogliere questi gruppi Quindi grazie a tutti e buon divertimento Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.